Proasca, personaggio d'eccezione alla vigilia di questo Inter-Roma, una partita indubbiamente dai toni accesi, non fosse altro per il desiderio di rivincita dell'Inter sulla Roma più che della Roma sull'Inter. Per me non esiste più una rivincita, questa partita è molto importante perché siamo quattro giornate alla fine del campionato e io credo che se facciamo il risultato a San Siro abbiamo fatto questo campionato, solo per questo sono emozionato, credo anche i miei compagni.